Voi tutti conoscete, avete avuto la fortuna di conoscere Pasquale, il direttore di questa galleria. A Pasquale è dedicata questa narrazione e appunto la narrazione ci dice il nome di quell'uomo è Pasquale. Sia il Pasquale direttore di questa galleria e il Pasquale Estivo, colui che abbandonava la sua galleria e si rifugiava nel suo paese natale, Scilla. Adesso vi mando io. Il nome di quell'uomo è Pasquale. In questa stessa galleria Pasquale cominciò a lavorare ancora giovanissimo. Lo indirizzò qui un suo amico paese natale, Scilla. Si chiamava Renato Guttuso. Sì, la vita di Pasquale è stata bella, ma anche fortunata. Pasqua! Pasquale! Da che parte vanno le onde? Il vento non è poi così forte. Dai! Vai verso est! Guarda lontano! D'ora in poi sarai nei miei occhi e starai con me. Pasquale, mi vedi? Lo so che ti sembro un po' trasparente. Sono Marta. Gli spiriti non vanno mai provocati. Solo successivamente imparò a trasformare la paura in una risorsa. D'ora in ela, isla bene. Il vento non sono affiore la paura in una risorsa. Divino il vento non sono affiore la paura in una risorsa. D'ora en la risorsa niente, Che partite, che partite per andare lontano. YASA EEN YASA NO DOCCOI SHO SAA DOCCOI SHO DOCCOI SHO YASA EEN SOLAM 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 Grazie 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 Grazie